Io lo ammetto anch'io, ho tantissima paura di volare e chi mi conosce lo sa perché chi ha mai preso un aereo con me ha patito le pene dell'inferno. Avrete capito che vi voglio parlare di volare. Margherita Bui all'esordio in questa esperienza come regista racconta di paure vere. Di paure che io per prima vivo e che rivedo in ogni personaggio. Sorrido ironicamente alle mie paure ma sono vere. Ogni sentimento, ogni sensazione che i protagonisti dichiarano di provare io li provo ogni volta che devo prendere un aereo. Il film è perfetto? No, probabilmente no. Qualche difetto lo porta con sé. Ma credetemi, se non avete paura di volare non potrete mai capire fino in fondo il grado di precisione con cui Margherita Bui trasferisce tutte le nostre paure. Per cui a parer mio godetevi questo film, godetevi le storie.